Musica Consiglio questo corso a chiunque come me sia un appassionato di calcio vivi l'emozione di poter finalmente fare una telecronaca o radiocronaca ad alti livelli con un grandissimo professionista come docente che è Marco Piccari Michele, ho 23 anni e ho appena finito questo corso di radio speaker, queste 5 lezioni sono tutte 5 lezioni diverse ma che ti danno qualcosa dal punto di vista sia di telecronaca che di radiocronaca che ti danno grosse indicazioni, ti fanno capire bene quali sono le differenze tra queste e le tecniche ed è un corso che credo sia giusto fare sia se si ha le prime armi sia se si ha già qualche esperienza Consiglio questo corso non solo ai ragazzi più inesperti ma anche chi magari ha un po' più di esperienza per affinare quelli che sono dei lati su cui si può ammirare molto anche quelli che non ci si aspetta Ciao sono Silvano, ho 27 anni e vengo da Pescara, consiglio questo corso perché mi ha divertito molto ho lavorato con un grande professionista come Marco Piccari che mi ha dato molti consigli utili per questo lavoro e ho conosciuto tanti altri ragazzi che hanno la mia stessa passione e questo può far bene a chiunque voglia intraprendere questa strada